C'era una volta la gamma, industria pubblica agroalimentare della filiera vicola, con circa 800 dipendenti diretti, avventizi compresi, e con oltre 500 partite IVA tra autotrasportatori, allevatori e consulenti vari. Una realtà produttiva che aveva impresso un notevole impulso economico, produttivo e occupazionale a tutta l'area Madesina e al Molise Centrale, contribuendo a fare uscire la regione dal sottosviluppo. C'era una volta, appunto, ma oggi non c'è più. Al suo posto un deserto che ha distrutto 1500 posti di lavoro e con essi il futuro delle famiglie coinvolte, lo sviluppo dell'intera regione, oltre alla distruzione di un patrimonio pubblico stimato in almeno 100 milioni di euro, Non vi lasceremo soli, è stato lo slogan più gettonato dai politici che negli ultimi anni si sono avvicendati al vertice della regione, celando in malo modo la loro gravissima responsabilità sul fallimento della gamma. Ritorsioni, ripicche, pessima gestione, clientelismo politico, incapacità di tutta la classe dirigente e promesse non mantenute sono state le cause di un fallimento annunciato. Oggi si brancola nel buio più totale e a pagare sono i dipendenti assistiti per sei anni con cassa integrazione per un costo sociale di oltre 30 milioni di euro che potevano e dovevano essere utilizzati per mantenere la gamma aperta. Gli stessi lavoratori non vedono nessun futuro dopo la grave rinuncia di Agricola Vicentina e lanciano un accorato e minaccioso grido d'allarme. La situazione è al limite, credo, del sostenibile perché praticamente la gente è preoccupata, estremata, non c'è futuro, spesso lo avete ricordato nei vari servizi, il lavoro che non c'è. Quindi la classe politica comincia a fare chiarezza, a dire che cosa vuole fare di questa azienda. Sono fortemente amareggiato e preoccupato da quello che si vede anche in televisione, dalle tarantelle e le sceneggiate napoletane che si vedono al Consiglio regionale. Io la parola lavoro veramente, l'ultima volta che l'ho sentita, negli ultimi programmi elettorali. Quindi pare che posso fare un passo avanti e ne abbiamo fatto due indietro, quindi c'è tanta amarezza fra lavoratori e a breve ci muoveremo, ci attiveremo con tutte le nostre forze e andremo in tutte le sedi per cercare di far rispettare i nostri diritti. Quali sono le soluzioni possibili a questo punto? Guardi, io voglio fare un appello a tutta la classe politica, non ci lascio nessuno, ce l'ho con tutti. Qui il Molise è in ginocchio, il Molise non c'è più lavoro, quindi io penso che si debba costituire una task force urgentemente per cercare di risolvere, non solo, e dare futuro a centinaia di famiglie. Altrimenti se non si fa questo io penso che a breve attiveremo la Caritas. L'area di crisi complessa può risolvere qualcosa? Io sono sempre convinto che, per averla abbiamo lottato tanto l'area di crisi complessa, però sono convinto che tra consiglieri e assessori non sanno nemmeno cosa vuol dire questo strumento molto importante. I lavoratori GAM hanno costituito un comitato e hanno deciso di affidarsi allo studio legale dell'avvocato Vincenzo Iacovino e per Paolo Passarelli. I lavoratori stanno organizzando un'avvertenza al fine di tutelare ogni loro diritto, non escludendo la possibilità di portare tutto il corteggio che abbiamo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. In quest'ultimo anno la politica cosa ha fatto? No, non ha fatto assolutamente nulla, ci hanno venduto per la Cassa Integrazione, siamo stati merci di scambio, hanno fatto un accordo solamente per la Cassa Integrazione. Ci troviamo, hanno sperperato 30 milioni di euro per tenerci così, senza nessuna prospettiva futura, ci hanno venduto. Forse giovedì si terrà l'assemblea dei lavoratori con i sindacati CGL e Cislo Hill, ma in assenza di soluzioni concrete per la continuità lavorativa, si rischia l'esplosione di una poderosa emergenza sociale con pesanti ricadute sull'ordine pubblico.